Justin Bieber aveva provato ad avvertirci sui crimini commessi da Sean Combs PDD e probabilmente anche sugli abusi subiti da lui stesso in giovane età. La sua canzone Yami, infatti, e ancora di più il video musicale, sono una chiara, inequivocabile rappresentazione di tutto ciò che stiamo scoprendo in questi giorni sullo star system americano. Oggi con voi voglio analizzare tutti i segnali che il cantante ha provato a lanciare già nel 2020 e che oggi rendono Yami il video musicale più inquietante in assoluto a mani basse, soprattutto per un dettaglio che vi rivelerò alla fine del video e che sinceramente a me ha messo veramente i brividi. Andiamo a vedere. Facciamo un piccolo recap sulla carriera di Justin Bieber. Viene scoperto su YouTube da Asher e raggiunge velocemente il successo planetario. Diddy non tarda ad arrivare. Si vociferà che proprio quest'ultimo abbia introdotto Bieber alla vita mondana e un polosca che si cela nel mondo dello spettacolo. Le molestie nei confronti del ragazzo in quegli anni sono tantissime e purtroppo tante sono sotto gli occhi di tutti. In questi giorni stanno riemergendo molti video tra cui ormai il celebre 48 ore con Diddy. Un video strano innanzitutto perché accosta un quarantenne ad un quindicenne. In secondo luogo perché in questo video vediamo Combs regalare a Justin una Lamborghini nuova di zecca con la promessa di passare poi 48 ore che, e qui cito testualmente il rapper, sono il sogno di ogni ragazzino ma che non può rivelare del tutto. Quindi una cosa molto strana. E questo è un passaggio che ci dobbiamo ricordare per capire meglio l'analisi che stiamo per svolgere sulla canzone. Anche perché dai 16 anni in poi il giovane ragazzino sorridente lascia il posto ad uno sgorbutico, scontroso, spento, tossico e dipendente che sembrava essersi perso del tutto ma che poi ha miracolosamente ritrovato la strada e che ha poi iniziato a lanciare messaggi di speranza, di crescita, di cambiamento e di miglioramento come dimostrano i titoli dei suoi ultimi due album Changes, Justice e molte altre canzoni, tra cui probabilmente c'è anche Yammy. Capiamo un attimo il contesto in cui si colloca questa canzone, partendo dalla promozione fatta dal cantante che è molto singolare. Nei giorni antecedenti all'uscita del singolo, il primo singolo dopo cinque anni, quindi una canzone comunque importante, pubblica una dozzina di foto di bambini appena nati, tutti accompagnati dalla scritta Yammy. Yammy è il termine americano che viene utilizzato per indicare il nostro mmm buono. Mi preme infine ricordarvi per cosa è accusato Sean Combs, e cioè traffico sessuale, abuso di minori, moleste sessuali, favoreggiamento alla promozione, corruzione e ci basta questo per oggi. E sono tantissime le persone che si sono ritrovati a questi famosi white party, sono stati ducati a loro insaputa e poi sono stati abusiati e addirittura filmati. Bene, ora che abbiamo tutti gli elementi, scendiamo nel dettaglio e analizziamo il video di Yammy. Un video difficile per lo stesso Justin, che ha dovuto interrompere più volte le riprese a causa di attacchi di panico, a testimonianza del fatto che questo era per lui un video molto importante. Justin Bieber entra da quello che sembra essere un passaggio segreto o comunque sia un ingresso secondario. Le prime cose che notiamo sono i flash dei fotografi e il fatto che Justin è vestito completamente di rosa. I flash dei fotografi forse stanno ad indicare che era una festa a cui partecipavano celebrities o che comunque era un evento noto e per quanto riguarda il colore rosa, quest'ultimo indica la purezza e l'innocenza, il classico colore che si associa ad un bambino. Inoltre Justin è incappucciato come a suggerire il fatto che non può far vedere che lui è presente a quell'evento. Nel momento in cui Bieber fa l'ingresso nella sala dove si tiene la cena, c'è una delle scene più importanti e anche più inquietanti. Le persone che sono lì ad animare la serata suonando dal vivo sono quattro bambini e la particolarità di questi bambini è che hanno tutti una faccia triste e disorientata, quasi ad indicare che sono costretti a stare lì ad abbellire la serata. I bambini suonano davanti a un sipario chiuso. Questo sta a indicare che quello che sta succedendo sta succedendo dove gli occhi del pubblico non possono arrivare. Generalmente in teatro, una volta che lo spettacolo è finito, si accendono le luci della sala per permettere agli spettatori di lasciare il teatro. La striscia luminosa che segue tutto il sipario suggerisce proprio questo tipo di situazione e chi ci può essere dietro le quinte dello spettacolo se non tutta l'elite di Hollywood? Possiamo vedere anche delle colonne romane in bella vista. Se guardiamo bene tutta la scena, la sala è costellata di statue, colonne e rimandi al mondo latino. A ben vedere il tutto suggerisce un collegamento molto eloquente all'episodio centrale del satiricon di Petronio, ovvero la cena di Trimalcione. Trimalcione era uno schiavo che era arrivato alla ricchezza, un po' come Diddy che si è costruito dal nulla ed è diventato uno dei produttori più ricchi in assoluto. E in questo episodio organizza una cena per ostentare il suo nuovo status. E alla cena partecipano altri schiavi arricchiti e parassiti affamati che si improvvisano poeti o retori, ma in realtà sembrano essere interessati solo e soltanto alle gioie del cibo e del sesso. Se leggiamo l'opera ci rendiamo conto di come all'inizio i discorsi intrattenuti sono apparentemente seri ed elevati, ma col passare del tempo si trasformano in racconti scabrosi e macabri e ci si abbandona al vino e agli incontri erotici. Da un certo momento in poi se annullano anche le apparenti distanze di classe sociale e i commensali iniziano a fare comunella con la schiavitù. E anche qui ci ricorda qualcosa. Nel sontuoso banchetto vengono servite pietanze che hanno le fattezze di vere e proprie opere d'arte e Petronio cerca di mettere in risalto i veri protagonisti di questo episodio, ovvero il lusso, la volgarità e l'eccesso. Petronio intende offrire uno spaccato grottesco ed efficace della società di quel tempo e probabilmente è quello che vuole fare Justin con la sua Yami. Inoltre concentrandoci sempre sulla scenografia notiamo che sui balconi presenti in tutta la sala ci sono i riflettori, quasi ad indicare che le persone che sono lì a mangiare sono anche riprese a loro insaputa. E anche qui qualcosina ci viene in mente. Dopo che Justin si siede c'è il primo piano di una delle bambine che si trovano lì a suonare. Il primo piano di questa bambina vestita di rosso viene associato al fischio di un microfono. E questa associazione suono volto è molto importante e dobbiamo tenerla ben a mente. Nella canzone nessuno dei quattro strumenti suonati dai bambini è realmente presente. Questo rafforzerebbe il concetto di bambini messi lì soltanto per fare contenti i commensali. A proposito dei commensali notiamo chiaramente che si tratta di celebrità, quindi una caricatura dei personaggi di Hollywood. Non è possibile distinguere bene dei riferimenti specifici e ve lo dico già adesso non c'è nessun riferimento a Puff Daddy. Ci sono però alcuni personaggi ricorrenti che possono indicare diverse cose. 1. Justin non è l'unica vittima. Infatti c'è un altro ragazzo vestito di rosa e c'è una ragazza vestita completamente a tema margherite, che è molto importante nel video e questa importanza viene data anche dal fatto che la copertina del video su YouTube è proprio un primo piano di questa ragazza. E la margherita, indovinate un po', simboleggia la purezza e l'innocenza. Un'altra vittima? La risposta ci viene fornita direttamente dal video perché poco prima del secondo ritornello c'è uno scambio di bocconi, di forchettate, diciamo, a palese sfondo sessuale che coinvolgono un signore molto anziano e questa ragazza che è palesemente una minore e c'è anche un verso di piacere. 2. Il signore seduto di fianco a Justin all'inizio del video potrebbe essere Clive Davis. È un personaggio che viene messo in risalto in diverse scene, per esempio quando Justin gli ruba gli occhiali, oppure quando vengono servite le portate più sfarzose, oppure anche alla fine del video. E potrebbe essere il più chiaro riferimento a Puff Daddy. Perché Clive Davis è stato un potentissimo dell'industria discografica che ha preso negli anni 90 sotto la sua alla protettrice proprio Puff Daddy ed è stato il suo mentore. Per anni si è speculato di una relazione tra i due, sono stati visti sempre insieme, hanno avuto un legame storico e alla veneranda età di 80 anni lo stesso produttore discografico ha rivelato nel suo libro di essere bisessuale e di aver avuto una relazione con un dottore e un'altra relazione con una personalità del mondo dello spettacolo che però non ha mai voluto rivelare. Se volete approfondimenti sul perché Clive Davis è il mentore di Puff Daddy, scrivetelo nei commenti e magari ci faccio un altro video. In ogni caso la somiglianza tra questo signore nel video e Clive Davis è molto 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 netta. A proposito della felpa, alcuni fan hanno fatto notare che è strappata all'altezza delle spalle, come ad indicare il fatto che Justin sia stato strattonato a forza in quella situazione. A proposito di atteggiamento, dobbiamo focalizzarci anche su quello di Justin, che è veramente strano. Per tutto il tempo si costringe ad essere contento ma lascia intendere che sta recitando e che si sente forzato in quella situazione. Ogni volta che assaggia qualcosa reagisce in maniera molto molto euforica. Euforia che viene poi evidenziata anche grazie a degli effetti grafici in cui i visi vengono distorti e proprio questo effetto è stato indicato come un riferimento al fatto che le sostanze stupicenti contenute nei cibi iniziassero a fare effetto. Vi ricorda qualcosa? Rimaniamo sul tema cibo perché sono tutte pietanze che assomigliano ad opere d'arte, come Trimalcione, ma c'è una in particolare che merita più attenzione. Si tratta del panino che viene servito all'inizio quando Justin si siede a tavola. Su questo panino vediamo una fetta di pane messa lì come a proteggere una ciliegia e la ciliegia rappresenta notoriamente la passione e la fertilità. Questa ciliegia non solo la ritroveremo marcia quasi a suggerire la morte della passione in favore della perversione e del marcio che c'era dietro, ma ad un certo punto anche il panino lo ritroveremo così. Già il solo fatto che ci sia una seconda parte della cena, sapendo quello che sappiamo oggi, è molto eloquente. Sappiamo tutti per stessa missione di Sean Combs che esistevano una parte 1 e una parte 2 e la parte 2 era quella dove succedevano le cose più selvagge che non si potevano raccontare. Nel momento in cui si entra nella seconda parte della cena, ecco tutta un'altra serie di messaggi che adesso vi elencherò. 1. I bambini sono spariti. Da questo momento in poi i bambini non ci sono più e vedremo più volte sullo sfondo il palco senza però mai più rivedere i bambini. 2. La frase che introduce il cambiamento di scena è Hope in a Lambo, I'm on my way, che sia un riferimento alla Lamborghini che PD di regala a Justin proprio in quel famoso video rimerso ultimamente. La canzone va avanti e sentiamo Justin pronunciare la frase You got yum 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 e con le mani fa il verso di una persona che si è ingozzata. Ne approfitto ora per suggerirvi in che modo dobbiamo leggere il titolo della canzone, ovvero yum me. Il cantante lo intende anche come young me, ovvero giovane me. Ed è così che va letta la parola per tutta la durata della canzone. Anche la prima frase è Yeah you got young me, ovvero sì hai avuto il giovane me. Se il gioco di parole non fosse ancora del tutto chiaro, facciamo un piccolo salto alla fine del video. Una torta si trasforma in un piatto in cui la portata principale è la foto di Justin Bieber da piccolo con la scritta yum me. E quello che è rappresentato nel piatto è lo young me di Justin. La frase You got a yum 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 yum, mentre fa il gesto di una persona che si ingozza, potrebbe stare a significare che Justin non è l'unica vittima, ma che ce ne sono state altre minori. Il testo è pieno di altre frasi del genere, come ad esempio Lost control of myself, I'm compromised, ovvero ho perso il controllo di me stesso, sono compromesso, you're incriminated, no disguise, and you will never run low on supplies. Cioè, sei incriminato, nessun travestimento e non rimarrai mai senza scorte. Boh. Quattro. Saltano fuori delle ragazze vestite in modo molto sexy. Cinque. All'inizio della coreografia, le quattro ragazze, quattro come i bambini che sono spariti, vengono piegate e coperte al collo da un fazzoletto rosso. Questo è un altro modo per simboleggiare il sacrificio. Forse questo serve ad indicare che non soltanto i bambini sono le vittime, ma anche chi lavora lì e alcuni ospiti. Ad avvalorare questa tesi, c'è lo stesso Justin che in questo punto della canzone si alza e si spoglia, mostrando una catena al collo. La catena al collo simboleggia l'essere schiavo della volontà altrui. Indovinate un po'? Tutti quelli che sono coinvolti nella coreografia portano una catena al collo. Sono tutti schiavi della volontà di qualcuno. Nel momento in cui Justin pronuncia la frase say the word, ovvero di la parola, si copre la bocca come a dire non posso dire la parola. Quale parola? Didi? Boh. Fatto sta che si copre la bocca. Ed eccoci arrivati alla scena finale, alla fine della festa, dove si cela il messaggio, a mio dire, più inquietante di tutti. Prima di raccontarvelo però vi chiedo di farmi sapere se vi è piaciuto questo video, se ne volete altri, e vi chiedo di iscrivervi al mio canale per supportare il mio lavoro. Nella scena finale vediamo Justin seduto al tavolo, visibilmente sconvolto, con la telecamera che si allontana. La festa è finita e notiamo, nel punto in cui inizialmente era seduto Clive Davis, una tutina rossa. Vi ricordate di chi era la tutina rossa in tutto il video? Sì, della bambina che abbiamo visto all'inizio. E c'è di più, c'è di nuovo il suono di un microfono che si sente appena, il collegamento suono-viso che abbiamo fatto prima. Dove si trova il vestito? Si trova nel posto in cui era seduto Clive Davis, ed è l'unico altro presente nella scena finale, oltre che un cameriere. Chi potrebbe essersi seduto al posto di Clive Davis? E chi potrebbe essere, in un certo senso, il suo successore? proprio Puff Daddy. E con questo il video di oggi finisce qui.